Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 167esima puntata del podcast di Marcosbox. Una nuova video puntata sperimentale del podcast di Marcosbox, quindi potete ammirare il mio bel faccione e anche gli screenshot del sito se mi guardate, se mi ascoltate, se mi seguite su YouTube. Se mi seguite su podcast normale, tramite le varie piattaforme, non potete avere questo bel faccione che vi tiene compagnia. E la seconda video puntata è una puntata sperimentale, anche questa. Ancora non riesco a trovare la quadra con il setup della telecamera e quant'altro. Quindi se vedete luci orribili, se vedete casini dietro di me, non fateci caso, sono un neofita del settore. Magari se vedo che la cosa vi piace, cercherò di fare il salto di qualità. Prima che me lo chiediate, la trascrizione di questa puntata, così come della 166, arriverà successivamente. Questo perché? Perché queste sono puntate che io faccio in presa diretta, commento con voi le notizie e quindi non ho un testo che poi vado a leggere come nelle puntate tradizionali del podcast e quindi devo fare la trascrizione a manina. C'è la possibilità, come avete detto voi e mi avete consigliato nella comunità di Telegram di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, però purtroppo causa lavoro e casini vari che mi sono successi negli ultimi mesi, ancora non mi riesco a metterli a applicarmi per cercare di capire come poter utilizzare questi strumenti per avere una trascrizione di quello che dico, anche delle puntate vecchie del podcast. Ho visto, tra parentesi, poi da alcuni tentativi che ho fatto che poi non riesce nemmeno tanto bene i vari strumenti, non riesco nemmeno tanto bene a capire quello che dico perché, non lo so, c'ho la pronuncia di merda, sì, lo so, faccio pietà. Spesso non mi capisce Alexa, non mi capiscono manco le persone che mi stanno accanto. Comunque, chiudiamo questa parentesi e vi ripeto, arriverà a breve la trascrizione. Apriamo la puntata e apriamo la puntata con una recensione di Black Codec che per la prima volta inizia a scrivere sul blog. Chi è Black Codec? È un lettore di Marcos Box che fa parte della Community Telegram che ha deciso di gentilmente donarmi un suo articolo per le pagine del blog ed è una recensione di Q4S, che è una distribuzione un po' particolare e una derivata di Debian che utilizza come Dexop Environment, Trinity Dexop Environment. Trinity Dexop Environment, che cos'è? È un fork, come potete leggere qui, di KDE 3.5, quindi robetta leggermente antica per voi che seguite il pinguino da tanto tempo. Ed è un Dexop Environment che a molti di voi farà scendere la lacrimuccia. Tanti ben ricordi, moltissimi di voi. So che hanno iniziato a seguire Linux in quel frangente, in quell'epoca quando erano state rilasciate le prime versioni di KDE 3.5. È una distribuzione però interessante. È solida grazie al fatto di essere basata su Debian. Ha un Dexop Environment che è old stable, come si dice in questi casi. e ha anche una serie di chicche software che potete ammirare nella recensione pubblicata da BlackCodec, come per esempio un software Sente che vi consente di installare rapidamente le applicazioni più comuni. Abbiamo anche la possibilità di installare programmi con un'interfaccia che ricorda spudoratamente quella di Windows XP, perché la particolarità di questa distribuzione è quella di avere anche un aspetto che è quasi completamente simile al caro vecchio aspetto di Windows XP. Quindi come potete vedere qui il tema è... Aspetto, ho cliccato sulla immaginetta sbagliata. Si è bugato il sito. Vabbè, lo vedete qui. Ed è in menu start di Windows XP. Quindi è un doppio Omar Core, sia per gli amanti di Linux, di KDE, delle prime versioni di KDE, che per gli amanti di Windows XP. L'ultimo sistema operativo buono di casa Microsoft, come dicono molti di voi. Andatevi a leggere la sua recensione. Ci sono diversi spunti interessanti. È una distribuzione che non ho mai preso in considerazione, non l'ho mai provata manco io in macchina virtuale, che di solito provo la schifezza della schifezza. Io praticamente provo qualsiasi desktop, qualsiasi distribuzione che mi capita sotto mano. Questa però non l'avevo mai considerata. E grazie ancora a Black Codec, che spero di ospitare prossimamente anche con altri articoli sulle pagine del blog. E, restando in tema di articoli non scritti dal sottoscritto, c'è anche un nuovo articolo, una nuova guida di Luca. Luca lo conoscete. Scrive ormai da diverso tempo per le pagine del blog. E in questa puntata non ha fatto una recensione, ma ha fatto una guida di nicchia un po' particolare dal titolo Dove è finito lo spazio sul disco, che va ad analizzare alcuni casi specifici in cui non riusciamo a scrivere sul disco perché ci manca di fatto lo spazio sul disco, però il disco è pieno ma non ci sembra pieno, oppure ho il disco pieno ma non so dove si è riempito, quindi non so come andare a ripulirlo, e ci analizza questi due casi specifici, o meglio, e ci spiega come riuscire a individuare il problema e andare a ripulire il nostro disco. Andate a leggere la guida, è di nicchia, è una cosa che agli utenti di desktop non capita mai, diciamo che questa è una cosa più per quanto riguarda chi gestisce server con Linux. Andate a leggere la guida, è davvero interessante, lasciate un commento. Passiamo adesso poi alle poche notizie che ho pubblicato questa settimana sul blog. La prima riguarda il rilascio di Wine 9.0, che arriva con il supporto Experimental Wigand. Wine lo conoscete, è il layer di compatibilità che vi consente di eseguire applicazioni Windows su Linux e Mac OS. Questa nuova versione contiene un gran numero di miglioramenti, fra i quali più importanti la nuova modalità Wow 64, non me la pronuncio proprio così come si è scritta, i driver sperimentali per Wigand. La nuova modalità Wow 64, non ancora abilitata per impostazioni progetti finita, consente di eseguire applicazioni Windows a 32 bit sulle versioni di Mac OS, che non supportano processi Unix a 32 bit. Per quanto riguarda invece gli utenti Linux, abbiamo il driver grafico sperimentale per Wigand, che supporta funzionalità come la gestione delle finestre, supporto multi-monitor, ridimensionamento a DPI elevato e supporto a Vulkan. Quindi anche Wine si sta muovendo verso Wigand, quindi ci aspetta un futuro tutto rose e fiori con Wigand. Ormai tutti quanti stanno migrando qui. Passando poi, passiamo adesso a parlare di distribuzioni Linux e parliamo di Linux Mint. La scorsa settimana ci eravamo rilasciati con il rilascio della nuova versione di Linux Mint, Linux Mint 21.3, e questa settimana c'è stato poi il rilascio, la settimana successiva, c'è stato il rilascio di l'edizione Edge di Linux Mint 21.3. Che cos'è l'edizione Edge di Linux Mint? Non è altro che Linux Mint con Cinnamon, quindi l'edizione principale, basata su Ubuntu, ma con kernel aggiornata l'ultima versione disponibile. L'iso Edge di Linux Mint è destinata a tutti quanti quegli utenti che necessitano di un kernel più recente rispetto alla versione classica presente nei repository LTS di Ubuntu per poter sfruttare appieno il proprio hardware, il proprio hardware recente. Nella fattispecie questa versione utilizza il kernel Linux 6.5. Come sempre, per maggiori informazioni, vi rimando all'articolo dedicato dove trovate poi anche il link per poter scaricare questa edizione speciale di Linux Mint. Infine, chiudiamo questa puntata con due notizie riguardanti Firefox. La prima è il rilascio di Firefox 122 che, a gran sorpresa, ha introdotto un pacchetto ufficiale di Firefox in formato DEB anche per la versione stabile. Negli scorsi mesi Mozilla aveva rilasciato un suo repository ufficiale, quindi con il pacchetto DEB ufficiale per le versioni Nitri e per le versioni beta di Firefox, adesso decide di compiere l'ulteriore step, quello di rilasciare anche un pacchetto DEB, quindi un repository DEB ufficiale, quindi per poter installare la Firefox sui sistemi operativi, quindi Debian, Ubuntu e tutti i loro derivati, in maniera semplice, in maniera rapida. Ed è una cosa buona e giusta che io andavo ripetendo da sempre, io da sempre sono stato un sostenitore di questa politica e auspicavo che Mozilla si desse da fare rilasciando un repository per questo, ma lei dovrebbe rilasciare anche uno per RPM, quindi per Fedoro OpenSource. Sarebbe anche carino da parte dell'altro lato del pinguino fare una cosa del genere. Dicevo, auspicavo da tempo una cosa del genere, perché Chrome, Vivaldi, come si chiama, Brave, Edge, la controparte offriva già da anni un repository ufficiale dedicato al proprio browser. Qual è il senso di avere un repository ufficiale per installare il browser? Quello di poter avere sempre l'ultima versione di Firefox, sempre aggiornata rapidamente, al giorno zero, quando viene rilasciata, con tutte quante le patch di sicurezza, le minor release e quant'altro, senza dover aspettare i manutentori delle liste che si decidano di mettersi lì a compilare. Ed è anche, per me, secondo me, una cosa buona per loro, perché così facendo i sviluppatori di Firefox avranno, diciamo così, minorogne per quanto riguarda la segnalazione di bug, perché, che ne so, per dirvi una, c'è il pacchetto di Firefox che viene rilasciato da Debian, che magari può essere afflitto da qualche regressione dovuta a qualche errore di complicazione o qualche cosa malinterpretata dagli maintainer di Debian, di Ubuntu, non succede più, perché Ubuntu ormai si è data agli snap, però in passato poteva succedere con le patch che Canonical applicava al pacchetto di Firefox in passato, e quindi adesso gli sviluppatori, diciamo, di Firefox, a mio avviso, possono avere un po' più, meno tempo da dedicarsi a trovare i bug, quelli specifici, che non dovuti al pacchetto di Firefox. È una cosa che dovevano fare da tempo, finalmente si sono decisi a farlo, e si sono decisi in un momento particolarissimo a farlo, perché ricordo a tutti quanti che oramai abbiamo lo snap ufficiale di Firefox, abbiamo il flat pack ufficiale di Firefox, quindi questa è una cosa che a mio avviso avrebbero dovuto fare anni fa, quando anche, che ne so, Ubuntu, che era la distribuzione più famosa, utilizzava il pacchetto DEB di Firefox, comunque, ma meglio tardi che mai. E dicevo, quindi è una release molto importante per noi utenti Linux, ci sono poi anche miglioramenti per quanto riguarda la traduzione delle pagine con Firefox Translator, o Translator, aspetta, non mi ricordo mai come cavolo si chiama, Translator o Translator, vabbè, da qua giustamente non lo posso vedere, di Firefox Translator o Translator, miglioramenti per la compatibilità dei standard Unicode, il supporto della lingua asiatica, e miglioramenti anche per gli utenti Mac, con il supporto per l'utilizzo delle chiavi di accesso memorizzate e porto le chiavi ai cloud su Mac OS, quindi cose buone anche per gli utenti Apple. e ovviamente vi dicevo del pacchetto DEB ufficiale e ho subito rilasciato una guida che vi spiega come utilizzare il pacchetto DEB ufficiale di Firefox su Ubuntu, Debian, Linux Mint e quant'altro. In questo caso io lo sto utilizzando su KDNN nel pacchetto DEB ufficiale perché subito sono andato a instalarlo, perché KDNN utilizzava come pacchetto di Firefox quello presente all'interno del PPA quello Mozilla Team che è un PPA di terze parti semi-ufficiale diciamo così di Canonical che però è appunto una cosa semi-ufficiale non era ufficiale ho deciso quindi subito di andarci a mettere questo repository di Mozilla ufficiale quindi subito ho deciso di sperimentarlo con voi e devo dirvi che gira che è una bellezza perché ci sono alcuni miglioramenti che vengono compiuti da parte dei manutentori di Mozilla quindi abbiamo prestazioni migliori perché grazie a delle ottimizzazioni che vengono fatte basate sul compiutatore realizzate dal team di Zilupo di Firefox e quindi effettivamente questa versione ufficiale offre dei miglioramenti nelle prestazioni di Firefox gira meglio qui che su Windows diciamo così su Windows ho notato che ultimamente Firefox ogni tanto tende ad aggarsi nel consumo di RAM ma devo capire bene se è colpa di qualche estensione che ho installato anche se sono pochissime estensioni che ho installato vabbè questa è un'altra storia comunque andatevi a leggere nel caso siete interessati a installare Firefox in formato DAB dal DAB ufficiale andate a leggere le pagine di Marcosbox dove trovate la guida che vi spiega come installare i repository e come pinnare dare priorità al pacchetto di Mozilla in modo tale da indicare il sistema di utilizzare quel repository anziché quello di sistema è una cosa che vale per Debian è una cosa che vale per Ubuntu è una cosa che vale anche per Linux Mint che Linux Mint non so se ve lo ricordate anche in quel caso abbiamo una partnership tra Linux Mint e Mozilla ne ho parlato diversi tempi fa per il pacchetto di Firefox con questa possiamo utilizzare direttamente quello d'origine quindi vi consiglio di andare a mettere credo ipotizzo che molto probabilmente nell'immediato futuro nella prossima versione di Linux Mint conoscendo quelli di Linux Mint che cercano di avere meno sbatti possibili immagino che diranno direttamente come repository questo qui di Mozilla per installare Firefox quindi lo integreranno all'interno del sistema e spero vivamente che lo facciano e vabbè con questa ultima notizia si conclude qui questa brevissima video puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a seguirmi sui social mi trovate su Facebook su X su YouTube sui principali piattaforme di podcasting mi trovate su Mastodon mi trovate su Telegram con il feed diciamo quello che può essere considerato un feed di feed RSS del blog quindi canale ufficiale di Marcos Box su Telegram dove pubblico le notizie la community telegram collegata al canale Telegram nella quale si può parlare di praticamente tutto non si parla soltanto di Linux e infine trovate un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog perché acquistando da uno dei link referral una piccola percentuale arriverà nelle mie tasche grazie alla partnership con Amazon vi ricordo anche che potete supportarmi acquistando direttamente dal link che trovate su HomePage ho messo un simpatico pinguino con un'immagine generata tramite intelligenza artificiale oppure utilizzare direttamente il codice Marcos Box meno 21 su Amazon se sapete come farlo se sapete come mettere manualmente il referral infine vi ricordo che potete supportarmi anche acquistando rinnovando la vostra VPN su NordVPN vi lascio il link in descrizione oppure lo trovate sulle pagine del blog ho detto tutto lunga vita e prosperità ci riascoltiamo ci rivediamo la prossima puntata che sarà spero la prossima settimana se ci sono abbastanza notizie e ciao 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 ciao